I riflettori dei media nazionali restano accesi ma la luce si fa più fioca e il rischio che possano spegnersi esiste. L'emergenza mediatica di Ischia sembra passata, non lo è quella di una comunità devastata dalla morte di 12 persone per la frana dello scorso 26 novembre. Casa Micciola all'epicentro, le ripercussioni attraversano tutti i comuni dell'isola. In queste ore presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati vengono ascoltati i sindaci, i commissari, l'autorità di Bacino fare presto. I rappresentanti delle istituzioni interpretano il sentimento delle comunità. Un senso di smarrimento attraversa gli isolani a Casa Micciola. Presso l'istituto ragioneristico Mattei è tornata la didattica a distanza come da pandemia per mille più ragazzi. Per tutti gli altri studenti dell'isola il blocco della statale rappresenta un ulteriore ostacolo nel traffico che serve a circunnavigare le aree a rischio, sperando non lo siano a rischio le strade che si percorrono. Per i mille sfollati di cui 400 in albergo continua anche l'assistenza della Caritas perché della ricostruzione materiale si discuterà di quella morale, della necessità di continuare a rafforzare il senso di comunità e identità. C'è bisogno soprattutto ora. I volontari tornano al lavoro ma non smettono di assistere e di dialogare con chi ha bisogno. Pasti sfornati caldi per chi aiuta e per chi è fuori casa in attesa di conoscere il proprio destino. L'emergenza continua senza o con le luci della ribalta.